Salve a tutti, in questo video modellizzeremo un sistema dinamico utilizzando il metodo del grafico di Bond. Il sistema è il seguente. Si nota che questo sistema ha solamente un grado di libertà, infatti spostando questo sistema con ruote che supponiamo senza attrito avanti indietro, cioè nella direzione orizzontale, e grazie a questa asta rigida questo sistema si può muovere solamente in verticale. Viceversa, fornendo moto a questo sistema, la posizione di questo sistema è univocamente determinata. Quindi per descrivere il sistema basta solo una coordinata. Possiamo scegliere per esempio la coordinata x che indica la posizione del carrello, o la coordinata y che indica la posizione di quest'altro sistema, o anche per esempio quest'angolo θ. Supponiamo che la lunghezza della barra sia L. Per esempio scegliamo l'angolo θ. Quindi x e y, cioè la posizione di questi due elementi, può essere così scritta. x è data da L seno di θ, appunto perché è questa componente qui, e y uguale ad L coseno di θ. Questa qui. Ovviamente si sta supponendo che in questo caso la molla, abbia lunghezza di riposo nulla, e quando il sistema è in condizione di equilibrio, questo carrello si trovi qui. Ovviamente in realtà c'è la lunghezza della molla, la lunghezza di questi pezzi, ma per semplicità li supponiamo trascurabili. Quindi a questo punto possiamo iniziare il nostro disegno del grafico di bond utilizzando un approccio sistematico. chiamiamo 1m, indichiamo con 1m il punto di diramazione nel quale c'è, è connessa la massa I, quindi un componente di inerzia, dove è connessa questa massa. Questa massa qui invece si muove lungo y, quindi possiamo identificare con 1y punto, dove punto sta per la derivata, dove qui c'è connessa l'altra massa. Ovviamente entrambe le masse hanno una massa m. A questo punto da queste due relazioni possono essere derivate per trovare le velocità. L coseno di teta per teta punto, y punto uguale meno l seno di teta per teta punto. A questo punto abbiamo indicato con 1m la velocità della massa, ma è ovvio che 1m è uguale ad 1x punto, quindi possiamo scrivere 1x punto, come qui abbiamo già scritto 1y punto. A questo punto per connettere questi due nodi utilizziamo queste relazioni. Cioè, prendiamo un nodo 1teta punto e da teta punto possiamo passare x punto mettendo un trasformatore modulato di costante L coseno di teta. Ovviamente in questo caso è modulato, quindi non è solamente una costante, ma dipende dall'angolo teta. quindi trasformatore modulato di caratteristica L coseno di teta. Qui già possiamo mettere le frecce, perché questo da qui otteniamo questa velocità. Lo stesso dicasi per questo. A questo punto notiamo che nella massa questa massa agisce questa forza. Quindi c'è un source dove agisce questa forza. Questa massa invece è collegata a questa molla. Questa molla è collegata a una parte che non si può muovere. Per esempio, chiamando questa parte, supponendo che abbia una velocità v con g. Quindi avremo 1v con g e ovviamente la velocità relativa, che la otteniamo con un nodo 0, appunto la differenza delle due velocità, ad essa è connessa alla molla. Appunto un elemento c. ovviamente, come abbiamo detto prima, questo punto non si può muovere. Quindi lo possiamo collegare a un source of flow di 0. A questo punto mettiamo le frecce. Ovviamente partiamo da entrambi i source. Quindi, per approssimare intanto il nostro modello, possiamo vedere che questo è un source of flow null. Quindi tutto questo va via. Questo e questo sono lo stesso. Abbiamo che da 0 questo è uguale a questo. Cioè l'effort e il flow di questi due sono entrambi uguali. Quindi possiamo eliminare questo 0. Quindi il sistema diventa il seguente. Quindi avremo la seguente. Questa così, come prima. Infine, mettiamo la causalità al sistema. Ovviamente questo è un source of effort, quindi la causalità è in questo modo, dato che un punto 1 non si propaga. Altri alimentatori non ne abbiamo, quindi imponiamo, per esempio, il suo stato integrale a questa massa, che coincide per esempio con questa massa. A questo punto questa si propaga. Questo è un trasformatore. Quindi si propaga. Si continua a propagare perché questo è un 1. Si propaga. Si propaga. Si noti che in questo caso la molla ha il suo stato integrativo. Una delle due masse ha il suo stato integrativo. O questa, o questa, o questa, o questa. Ovviamente se avessimo attribuito lo stato integrativo a questa, non l'avrebbe avuto questa. Questo appunto perché spostando questa massa, la posizione di questa massa è univocamente determinata. E viceversa. Quindi il nostro sistema, in definitiva, ha due stati. 1 nella molla e 1 in una delle due masse.